La tecnica non è nuova ma è sempre spettacolare da vedere. Gietti d'acqua accesi durante la notte nelle ore più fredde nei melliti della Valtellina per salvare le piante in fioritura dalla primavera sotto zero. Il ghiaccio ci aiuta a salvare le piante in fioritura dalle temperature troppo basse di questi giorni. Sicuramente una tecnica innovativa, preziosa, intelligente e che rispetta la natura. Il funzionamento qual è? È molto semplice, nel senso che quando le temperature lo richiedono viene attivato l'impianto antibrina e questo fa sì che si deposita l'acqua sulla pianta gelando, crea una velatura di ghiaccio e al suo interno il fiore resiste a zero gradi e si tutela e fa sì che il frutto non subisca danni. È importante l'impegno della Coldiretti Sondro. Dopo le temperature mitiche che hanno favorito il risveglio della vegetazione ora le coltivazioni sono più vulnerabili agli sbalzi termici. Con l'irrigazione accesa nelle ore più fredde le gemme e i fiori delle piante di melo vengono così messi al sicuro da un sottile velo ghiacciato che li preserva dalle gelate. Non tutta la frutticoltura valtellinese è sotto impianti antibrina. È purtroppo solo una parte, però va benissimo anche questo per il momento e si spererà che magari in futuro si amplieranno anche questi impianti. Il ritorno del grande freddo preoccupa anche i viticoltori. In generale tutte le culture sono in fase avanzata rispetto alla stagione in particolare dopo le temperature alte della scorsa settimana. Tuttavia è presto per tracciare una stima dei danni. Molto dipenderà anche dall'andamento, dalle temperature e dall'escursione termica che si andrà a verificare nelle prossime ore e nei prossimi giorni. I tecnici di Coldiretti Sondro sono però al lavoro per monitorare la situazione giorno per giorno.